Non sono cavaliere. Io di debiti me ne intendo. Guardi che i fondatori delle congregazioni sono tutti santi e io non lo sono. Un giorno apri il tuo baule e lo vedi vuoto. A Condon Bosco si rischia sempre di esagerare un po'. Che peccato. Si poteva fare di più, molto di più. Beh, a pensarci bene effettivamente quello sì che è un gran cavaliere. Il fatto è che i padroni pagheranno sempre meno che possono. Io ci tengo tanto. Noi la merenda, se la facciamo, la facciamo grande, per cui nessuna merendina. Tutt'al più, se è possibile, una merendona. Sembra un gioco, eh? Ma non lo è. Non si educa a pancia vuota. E provare a cercare dei sinonimi più semplici. No, eh? Uniti e ispirati. Si è sempre più forte. Però adesso mi lascio a pregare un po'. Per fare il bene, occorre farlo bene. Il mio ufficio, il letto. Non vi invidio davvero, per me siete tutti in mattia. Fare e tacere.